Prima di continuare ti invito a iscriverti al canale e lasciare un mi piace grazie. Sonia Bruganelli, la nota figura televisiva italiana, ha recentemente scatenato un vortice di pettegolezzi sui social media riguardo a un possibile nuovo fidanzato. Tutto è iniziato da una foto che l'ha immortalata mentre baciava un uomo sulle labbra, scatenando l'interesse e la curiosità di molti. Ma chi è questo enigmatico uomo coinvolto in questo bacio misterioso? Il misterioso uomo è stato identificato come Giuseppe Scagliola, un nome che potrebbe suonare familiare ai fan della televisione italiana. Giuseppe è noto come l'autore del popolare programma televisivo Ciao Darwin, condotto dal noto presentatore Paolo Bonolis. Una curiosità intrigante è che Paolo Bonolis è anche l'ex marito di Sonia Bruganelli. Questo particolare dettaglio aggiunge una nuova dimensione alla storia tuttavia, c'è ancora di più da scoprire. Giuseppe Scagliola non è solo un collega di lavoro di Sonia e Paolo, ma è anche un caro amico di entrambi. Ecco il colpo di scena, Scagliola è un uomo sposato. Alla luce di queste informazioni, sembra chiaro che non possa essere il nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli. Consapevole del potere delle immagini e della reazione dei social media, ha deciso di giocare con il gossip, alimentando le speculazioni ma anche scherzando sulla situazione. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso la foto del bacio e ha scritto una didascalia sarcastica. Auguri nuovo uomo della mia vita. In seguito, ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha commentato ironicamente, non ci credere, non è come sembra. La stampa ci rema contro. Questo dimostra come Sonia stia gestendo abilmente l'attenzione mediatica su di sé, usando la sua notorietà per divertirsi con il gossip. Sonia Bruganelli ha sperimentato il mondo della televisione in prima persona, grazie alla sua partecipazione come opinionista al grande fratello VIP. Anche se la sua permanenza nel programma è stata breve, ha chiaramente imparato come gestire la sua immagine pubblica e come affrontare le voci e le speculazioni dei media. Come dimostra la sua reazione al gossip riguardante il suo divorzio e il presunto nuovo amore. In un'epoca dominata dai social media e dalla cronaca rosa, Sonia Bruganelli dimostra di essere una maestra nell'arte della gestione dell'attenzione mediatica.